Buongiorno, salve, scusa ma vi appello per un'informazione, ho già ricevuto le schede per le votazioni, mi ha detto di chiamare voi per sapere se voi avete qualche candidato che sostenete qualcuno? Sì, solo un attimo che gli passo la collega. Buongiorno, oggi mio padre ha ricevuto le schede elettorali per la votazione in Italia e mi ha detto di chiamare voi per sapere se voi avete qualche candidato. Suggerite qualche candidato? Sì, il PD. Il PD? Quale candidato in particolare? Laura Garavini. Laura Garavini, ok. Mi pare a Liege, ma non ho a Liege, lui è là, lui è sempre un po' complicato per lui la votazione. Il PD? Il PD? Il PD ? Il PD? Ma non ho a Liege, ma non ho a Liege. Ok, saltiamo la fila e vi lasciamo giusto le schede elettorali. Ok, va bene, buona giornata. Grazie a tutti.